ben ritrovati a salva un amico noi oggi siamo venuti al parco canile di monza siamo qui con stefania e poi c'è un cucciolo un po impaurito di nome morc esatto lui è un cucciolo probabilmente incrocio mare in mano pastore mare in mano è appena appena arrivato qui da noi quindi lo avete spaventato anche perché proprio deve imparare un pochino a conoscere diciamo la sua nuova casa momentanea comunque ha circa sei mesi quindi crescerà ancora un pochino prevediamo una taglia media barra medio grande stiamo lavorando per guadagnarci un pochino la sua fiducia così poi potremmo fargli conoscere il mondo lo vediamo un po tranquillo sta a sedere tra noi ci guarda ancora un po insospettito sta già alla pettorina anche se non cammina tanto diciamo per adesso però quantomeno sa già stare a guinzaglio e con la pettorina addosso diciamo che la prima cosa di solito che che noi insegniamo adesso questi giorni lavoreremo sulla sulla gestione al guinzaglio magari in compagnia anche di un altro cane che ci sappia già andare così da dargli un attimino l'esempio però vi dico che in realtà lui è un finto tranquillo nel senso che quando è in recinto e gioca con la cagnolina che è arrivata insieme a lui o con altri cani con cui l'abbiamo fatto interagire poi da buon cucciolo è tutto tranne che calmo insomma quali sono insomma i consigli che dai a chi è interessato a questo genere di adozione allora noi ovviamente lo conosciamo da poco però sicuramente sarebbe meglio una famiglia che magari ha già un pochino di esperienza più che altro perché magari non lo voglia coccolare da subito ma gli di appunto il tempo di conoscere le nuove persone è un cucciolo quindi sicuramente più esperienze positive fa adesso che è piccolino e più si vivrà di rendita quando poi diventerà un bel cavallone insomma e poi ovviamente le persone possono sempre venire anche da voi poi a chiedere un po di aiuto qualche consiglio in più e soprattutto con i cuccioli magari anche imparare proprio l'educazione il momento appunto più importante quando arrivano in una nuova famiglia e devono certo diciamo che tanti pensano che in realtà un cucciolo sia più facile da crescere rispetto ad esempio un cane adulto in realtà non è sempre così quando le persone vengono a chiederci un cane in adozione noi ovviamente cerchiamo di dargli tutte le informazioni di quello che possiamo vedere dentro il canile e fuori dal canile però ovviamente chi poi decide di prendere un animale in adozione deve sapere che deve riuscire poi a star dietro anche i piccoli problemi che magari potrebbero esserci a casa insomma e allora quello che possiamo vedere è sicuramente questa dolcezza e il fatto che sia appunto un cucciolo splendido e allora noi speriamo anche che presto trovi una famiglia esattamente per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile chiocciola enpamonza.it Grazie a tutti